Il Presidente del Consiglio Conte riferirà oggi in Parlamento sul Messe il meccanismo europeo di stabilità. Nella maggioranza, peraltro, non c'è accordo su questo tema. Le quattro ore del Vertice, terminato ieri a tardanotte a Palazzo Chigi, hanno mostrato che Movimento 5 Stelle e PD hanno posizioni diverse. Come ha ammesso lo stesso Ministro degli Esteri Di Maio, la decisione sul salvastati a questo punto toccherà alle Camere. C'è invece l'accordo per un carcere più lungo per gli evasori. Sono stati infatti presentati dalla maggioranza due emendamenti, in questo senso al decreto sul fisco. Ma la Confindustria non ci sta, è preoccupata per il continuo ampliamento, dice, della sfera penale e i fatti economici. E parla di un approccio iper-repressivo. Poi ieri c'è stata una nuova manifestazione del cosiddetto Movimento delle Sardine, che si sono ritrovate, ecco vedete l'immagine, in tanti a Piazza Duomo a Milano, che era affollata nonostante la pioggia sul palco. C'era anche lo scrittore Roberto Saviano, altri appuntamenti per le Sardine ieri, in manifestazioni a Padova e a Taranto. E poi la conferenza sul clima che si apre oggi a Madrid. L'obiettivo è quello di contrastare l'aumento della temperatura nei due gradi. E alla riunione di oggi ci sarà anche una delegazione degli Stati Uniti, pur se Trump ha deciso di ritirare il suo paese dagli accordi di Parigi del 2015, mettendo a rischio quindi il raggiungimento di qualunque obiettivo. Veniamo subito alle prime pagine. Ecco il Corriere della Sera. Salva Stati, si tratta con l'Unione Europea. Dovrà andare Gualtieri a dire che non ci piace. Tensione al vertice, non c'erano i Renziani. Vedete, è mandato a Gualtieri il Ministro dell'Economia per Bruxelles. Qui di spalla le Sardine con la manifestazione in Piazza Duomo. Questa è la Repubblica. Così salta tutto, dice il quotidiano romano. Tensioni all'estremo al vertice notturno di Palazzo Chigi, appunto quello sul MES. E poi un'intervista a David Sassoli, al Presidente del Parlamento Europeo. Bloccare la riforma, dice Sassoli, sarebbe una scelta ad alto rischio per l'Italia. Anche in questo caso l'immagine è questa degli ombrelli, ieri in Piazza Duomo con le Sardine. Sapessi com'è strano un mare di Sardine a Milano. Parafrasando una vecchia canzone. Ecco la stampa. Messe il governo appeso al rinvio, quindi le difficoltà nel dibattito. La foto grande è dedicata a tutt'altra vicenda. Bruxelles sarebbe la capitale delle spie cinesi in Europa. Questo dice la stampa. Ancora, eccoci al messaggero. Governo spaccato. La sfida passa nelle aule. E poi qui un altro titolo, lo avevamo visto anche su altri quotidiani, l'accordo di Malta è operativo all'Unione Europea, i primi 210 migranti. Quindi l'accordo per la famosa redistribuzione. Questo è il Sole 24 Ore, con un titolo dedicato alle tasse. Il Sole 24 Ore del lunedì, diciamo, è un po' un almanacco. Tasse e vase, 110 miliardi l'anno. Vedete, la voce più alta è l'IVA, 37,2 miliardi di evasione. Poi l'IRPEF del lavoro autonomo e di imprese. E poi tutte le altre voci, arrivando fino al canonerai. Ecco il resto del Carlino. Il conto degli enti inutili. Valgono 13 miliardi, sono tanti. E costano questa cifra ogni anno alle casse dello Stato. Ecco il giornale. Tasse sia alle manette. E l'accordo appunto sul decreto fisco. PD e 5 Stelle, d'accordo solo sul carcere agli evasori. Ancora, eccoci al Fatto Quotidiano. Benetton senza vergogna. È il riferimento alla lettera di ieri di Luciano Benetton, che ha detto che la sua famiglia è parte lesa nella vicenda del Ponte Morandi e dintorni. E basta con la campagna di odio. Questo è il titolo del fatto. Senza vergogna. Si autoassolve per i crolli di autostrade. E ancora, ecco la verità. Tria ammette il tradimento sul MES. Il MES è il meccanismo europeo di stabilità. L'ex ministro, incalzato in tv da Tremonti, conferma che il meccanismo di stabilità non è passato in Consiglio dei Ministri. Eccoci al Libero, Unione Europea, ancora il MES. Salva tutte le banche, tranne le nostre in crisi. E ancora, il secolo XIX, quotidiano genovese. Apertura sul fondo salva stati. Ma ci interessa questo titolo. Di nuovo chiusa la A6, perché quella del viadotto crollato, travolto da una frana nei giorni scorsi, perché la frana si muove ancora. E quindi c'è il rischio di stabilità. E infine la Gazzetta dello Sport, che registra la notizia calcistica del giorno. Potere Inter, sorpasso dei nerazzurri sulla Juventus, in cima alla classifica. Ci fermiamo qualche istante. Allora, sette e dieci minuti. È durato quattro ore ieri sera il vertice, fino a mezzanotte il vertice a Palazzo Chigi, che doveva stabilire che cosa... la posizione del Governo, la posizione della maggioranza, sul famoso fondo salva stati. Ebbene, al termine di quelle quattro ore non è stata trovata un'intesa. Quindi, sostanzialmente, oggi il Presidente del Consiglio parlerà in Parlamento, Parlamento al quale viene delegata ogni decisione per un provvedimento che è praticamente in dirittura d'arrivo, come ci hanno già spiegato. Vedete la novità del giorno? Lo strappo di Renzi al vertice. Sì, perché ieri Italia Viva non c'era. Non vediamo. Vedetevela voi. Si punta a un unico pacchetto con tutte le riforme europee. E poi qui Conte contro Salvini, perché è questo il duello in corso. Pressing da Di Maio. Deve decidere il Parlamento. Ed è quello che accadrà, perché non c'è una linea unitaria da parte della maggioranza. E poi lo scontro con Gualtieri. Che è quello che dovrà andare a chiedere modifiche all'Europa, modifiche che al momento appaiono difficili. Vedete, importante e interessante è questa intervista a Goffredo Bettini. Bettini è uno dei principali consigliere, se non il principale consigliere del leader del PD Zingaretti, e qui lo dice molto chiaramente. Siamo stufi come Partito Democratico di come vanno le cose. O si cambia musica o si chiude. Eccolo qui uno dei passaggi importanti di questa intervista. La domanda è, non è da rivedere la teoria dell'alleanza con i grillini? Dice Bettini, che l'aveva teorizzata proprio in un'intervista al Corriere della Sera. L'alleanza è un processo che fin dall'inizio abbiamo previsto come difficile e impegnativo. E poi dice, non ci sono più zone grigie e intermedie, anche i 5 Stelle, quindi lì in calza debbono scegliere e stanno pienamente dentro questo travaglio. Cioè Bettini ammette la situazione dialettica all'interno della maggioranza, ma chiede ai 5 Stelle a un certo punto di prendere posizione e di decidere dentro o fuori governo avanti o stop ed elezioni. Evasori e carcere, Confindustria attacca, sono arrivati gli emendamenti della maggioranza, attenuamento per i reati occasionali, ma in asprimento per gli amministratori. E lo vedete la posizione di Confindustria. C'è un approccio iperrepressivo con tutti questi attacchi all'impresa e poi qui tutti i cambiamenti al decreto fiscale del quale si sta discutendo. Pagina dedicata a Giorgia Meloni ai partiti verso il voto regionale del 26 di gennaio. La sfida di Fratelli d'Italia basta tasse e sprechi. Ieri la Meloni parlava a Bologna dove per la verità c'era anche in una manifestazione separata Salvini proprio per misurare la propria forza anche rispetto alla Lega. È l'alleato più importante in questo momento almeno stando ai sondaggi. Eccoci invece a Milano. Le Sardine ieri hanno manifestato, vedete? Eccola qui, l'immagine di una piazza di una piazza a Duomo in realtà la manifestazione doveva venire lì accanto ma la gente era tanta, 25 mila dicono gli organizzatori, 15 mila per la questura era piena nonostante appunto le avverse condizioni meteorologiche sul palco c'era Saviano il capo leghista dice a paura. Qui una pagina invece che raccoglie due notizie da una parte l'inchiesta sulla fondazione Open le società di Carrai sodale, amico di Matteo Renzi per i soldi all'estero e qui sotto un'intervista a un personaggio popolarissimo come Francesco Guccini 79 anni, il cantautore lui dice non sono mai stato comunista ma voto per il Partito Democratico in Emilia non passerà la destra Grillo deve dare una mano e poi naturalmente si dilunga proprio sulle sue posizioni politiche che sono conosciute soprattutto per la canzone La Locomotiva ricorderete la fiaccola dell'anarchia e lui dice io sono quello, un libertario Malta il papà di Daphne eccolo qui Michael Vella il papà di Daphne Caruana Galizia dice forse la nostra isola potrà diventare un paese migliore dopo proprio la morte di mia figlia ieri ancora manifestazioni contro il governo Muscat questa notizia invece è importante questa pagina è importante perché racconta come si è entrato in vigore il meccanismo operativo il patto di Malta dice il Corriere quello per la redistribuzione dei migranti che arrivano nel nostro paese è già stato applicato in tre casi e quindi meno pressione sull'Italia infine l'ultimo titolo che citiamo dal Corriere della Sera è questo si è votato nel referendum per separare mestre da Venezia bene il quorum è lontano ha partecipato ieri solo il 21,7% degli elettori quindi consultazione non valida eccoci eccoci rapidamente ai titoli di Repubblica questa è l'intervista al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli che è molto netto sulla vicenda del MES bloccarne la riforma può essere una scelta rischiosa per l'Italia fra l'altro Sassoli dice che il dibattito sul MES praticamente avviene solo in Italia a domanda del meccanismo europeo di stabilità si parla solo da noi l'altro giorno ho chiesto all'ufficio comunicazione di prepararmi una rassegna con tutti gli articoli apparsi sul MES negli altri paesi del continente ebbene quanti sono questi articoli? zero dice Sassoli che appunto spiega come però questa insistenza sul voler rivedere potrebbe danneggiare noi e questa invece è la pagina dedicata al decreto fisco pene ridotte per l'evasione ma la Confindustria va all'attacco e parla di un governo iper repressivo su queste vicende torna la Repubblica a parlare del caso autostrade Di Maio è andato giù durissimo dopo la lettera di Luciano Benetton che dice basta con questa campagna di odio contro la mia famiglia per la vicenda autostrade ed è gelo anche fra la famiglia e i manager che proprio Benetton ha chiamato in causa per i fatti i noti fatti di Genova Milano cambia piazza dice la Repubblica raccontando come quel luogo che era stato affollato per Salvini adesso ieri si è riempito di esponenti delle Sardine Sardine che dice ancora Repubblica sono oramai alla prova della politica il 15 dicembre i gruppi di tutta Italia si riuniranno una sorta di congresso per quello che in realtà è un movimento titolo divertente questo di Repubblica perché racconta queste sono Sex and the City una delle serie televisive più famose bene avevano un simbolo una delle icone erano le scarpe di Manolo Blanick bene Blanick ha chiuso la sua boutique new yorkese New York è meno sexy titola con divertimento Repubblica che dedica una pagina a un italiano che ha vinto una competizione un po' strana il super campione di memoria è questo ragazzo romano Andrea Muzzi che ha memorizzato ecco lo devo leggere perché io non lo ricordo lui si 1820 carte da poker in ordine in mezz'ora e poi le ha ripetute una dopo l'altra senza sbagliarne neanche una se volete qui lui dà alcuni suggerimenti per come accrescere la memoria magari non ai suoi livelli siamo alla stampa questa è l'opinione di Carlo Cottarelli che torna a parlare naturalmente di economia dietro lo scontro sul salva stati c'è il problema della riduzione del debito pubblico e ancora intervista al ministro per le regioni Francesco Boccia liberiamo le regioni dalle troppe autorizzazioni è una delle spine come dice proprio la stampa della maggioranza il tema delle autonomie sulle quali ancora non c'è un accordo e ancora questa era l'apertura era l'immagine forte della prima pagina della stampa l'allarme che arriva dai servizi segreti a Bruxelles sarebbe concentrato la centrale diciamo delle spie cinesi per l'Europa si stima che siano 250 gli agenti attivi di Pechino più di quelli russi quindi pensate quanto considera importante la capitale europea Pechino le polemiche a Londra dopo l'attentato il nuovo attentato a London Bridge basta libertà vigilata per i terroristi Johnson la pena minima di 14 anni e in questo momento vengono rivisti 70 casi recenti ancora una piaga sulla quale torna la stampa quello delle mutilazioni genitali per le giovani bambine africane sono 5.000 le bambine a rischio nel nostro paese per questa procedura che purtroppo continua a essere applicata allora questo invece è la verità con un'intervista a Giorgia Meloni Di Maio mostri dignità parla del del meccanismo europeo di stabilità deve far cadere il governo se è davvero contro il nuovo mess come dice deve ritirare la fiducia i numeri in Parlamento li ha e ancora sempre sul mess ma da libero l'intervista all'ex ministro dell'economia a Tria che dice di aver lasciato i conti in regola piuttosto avrebbe voluto tagliare l'IRPEF l'Italia non era sul baratro pronta avevo pronta dice una riforma fiscale e il meccanismo salva stati si può cambiare poi ieri c'era stato questo scambio con Tremonti come riferiva anche la verità sul fatto che era passato se fosse passato o no in consiglio dei ministri e dal messaggero invece attingiamo il titolo su uno dei temi in discussione in questi giorni che è il caso di Alitalia sta per arrivare l'ennesimo prestito ponte stavolta da 450 milioni di euro perché ancora l'accordo per la nuova compagnia che dovrebbe salvare la compagnia aerea non c'è Dal Carlino eccolo qui il titolo su Estradato il pirata il pirata è l'imprenditore di Forlì Giulio Lolli che dagli yacht è diventato un signore della guerra proprio in Libia e ancora sempre Dal Carlino il titolo dedicato ai 13 miliardi che ogni anno ci costano i cosiddetti enti inutili consorsi centri sigle bizzarre questo è l'ex ministro Calderoli quando diede fuoco a una serie di leggi inutili a questo proposito terminiamo con l'ultimo titolo riguarda la Liguria dove credo torni il maltempo ce lo dirà Paolo Sottocorone ma dove ha chiuso di nuovo la A6 quella dove era caduto il viadotto perché la frana si è mossa di nuovo Paolo buongiorno quali sono le condizioni meteo? Buongiorno buongiorno allora ancora abbiamo questa fascia che prende dalla Liguria verso il nord-est dove sono attesi fenomeni ancora di una certa consistenza per non dire intensi c'è in realtà non so se riuscite a vedere una traccia di temporali proprio al confine fra Alta Toscana sull'appennino tosco-emiliano situazione che piano piano si attenua ma quindi non vedrei un aumento o un'intensificazione di questo maltempo sulla Liguria nello specifico ma magari anche una certa attenuazione di questi fenomeni infatti la prima parte della giornata di oggi vedete mostra ancora questo asse che prende ancora buona parte della Liguria proprio la zona dove adesso c'erano i temporali quindi sono presa proprio con una certa precisione e ancora il nord-est piogge deboli sul resto del centro-sud sul versante tirrenico e qualche schiarita almeno sul Piemonte e sulla Val d'Aossa vediamo la seconda parte della giornata di oggi vedete questa fascia di maltempo tende a scendere verso sud-est e quindi intensificazione dei fenomeni sulla Liguria sicuramente non ci sarà diciamo che è una buona notizia con la sua parzialità giornata di domani l'attenuazione di questo maltempo c'è ma restano piogge che vedete prendono tutto l'Appennino le zone del centro le zone del sud e questa volta si affacciano anche sul versante adriatico che era rimasto un po' protetto quando il tempo arrivava da ovest adesso sta cambiando arriverà da est da est sud-est e vediamo anche la giornata di mercoledì in cui vedete che i fenomeni tendono a concentrarsi sui versanti orientali un po' sull'Adriatico poi prendono il versante ionico e poi il maltempo forte che avevamo diciamo più o meno visto per martedì in realtà arriverà a mercoledì che prende intanto Corsica e Sardegna ma sulle Baleari il maltempo è forte al nord situazione un pochino più tranquilla i due flash per chiudere delle temperature minime di questa mattina risalite di nuovo vedete il giallo abbastanza esteso temperature sopra i 10 gradi su alcune zone del centro e del sud anche per il centro i 10 gradi in questa stagione non sono normali sono sopra media e poi lo stato dei mari mossi o molto mossi soprattutto il Tirreno lo stretto di Sicilia e parte dell'Adriatico gli altri relativamente tranquilli con una zona di la zona di maltempo che si forma a Ovest porterà ovviamente anche un moto ondoso piuttosto forte se volete ci vediamo subito prima delle 7 55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Edicardo Gulotta a più tardi grazie a tutti